Perfetto. Perfetto. Ora mangiamogliela a nana, così poi ce la mangiamo anche noi e tutti a nana. Comun'insulta. Cioè ha scritto insulta. Ragazzi, secondo me sto tizio che ha creato sto gioco, voglio mettere i tapis. Non so come mai. È solo la mia impressione. Dieci ore dopo. E dieci ore dopo, meglio che sto zitto. Vediamo un po' che succede. Poi, I can't sleep. Beh, guarda poi, è subito di peggio. Oh, ciao Tinky Winky. E cosa stai facendo di preciso? Vaffanculo, va! Il bello è che me lo stavo persino aspettando. What are you doing? Cosa stai facendo? Tink, mic, puntini, puntini, puntini. Ehi, aspetta. Wait. Aspetta, dove stai andando? Perfetto, sei proprio di... Svegli gli altri o... Andiamo solo i due. Magari, magari con un comporto mio... Magari si rispegnerà... Si rispegnerà un pochino. Un pochino si rispegnerà. Magari diventerà anche un po' più intelligente. No, ma porca miseria. Quanto odio i tasti VST. Madonna, i tasti VST, ragazzi... Io li odio. Perfetto, prendiamo la torcia. Oh, perfetto. E ora andiamo a prendere quel... Andiamo a riprenderci Tinky Winky. Anche se so già che... Anche se so già che non finirà molto bene. Non so, però ho questo presentimento. Ho come il presentimento che qua non finirà. Ragazzi, ho come il presentimento che... Non finirà bene. Penso, eh. Penso, però... Magari può essere che funzionerà. Che andrà tutto bene, però... Diciamo che... Non so se andrà tutto bene. E dubito parecchio che andrà tutto bene. Tinky Winky. Senti, abbiamo... Lo so che...